50 agriturismi, bed and breakfast e altre strutture ricettive sono state controllate dalla Guardia di Finanza nel periodo estivo, circa il 10% del totale. Le Fiamme Gialle hanno individuato diverse strutture che non hanno rispettato le disposizioni previste dalla legge regionale sulle attività agrituristiche, 9 i casi di violazione della corretta informazione ed esposizione dei prezzi alla clientela e 2 di mancato rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi, i limiti dimensionali, la capacità ricettiva, la natura dei servizi offerti. Verifiche sono state poi svolte sulla corretta emissione di scontrini e ricevute fiscali, sull'eventuale impiego di lavoratori in nero e regolari, nonché sui pagamenti del canone Rai. I finanzieri hanno operato prevalentemente su siti specializzati dove hanno individuato la collocazione delle strutture, l'offerta di servizi, i prezzi minimi e massimi, nonché i periodi prenotati. Poi hanno proceduto a una meticolosa attività di ricostruzione e incrocio dei dati acquisiti online con le banche dati in uso all'amministrazione finanziaria e con i documenti dei soggiorni emessi nei confronti degli ospiti. Numerosi anche i controlli effettuati su privati cittadini che hanno affittato gli immobili completamente a nero o dietro a un finto contratto di comodato gratuito. In totale sono oltre 220.000 euro i redditi sottratti al fisco con la conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate.